Bambolina Bebé Ciao a tutti! Oggi preparo il purè di broccoli per Annabelle Accendiamo il fornello Ecco qua! Mescoliamo! Sono sicura che a Danna Bello piacerà! Ciao! Mentre Peppa fa da mangiare ad Annabelle io mi posso occupare di altre faccende domestiche Adesso sto lavando i suoi vestiti Stendiamoli ad asciugare Prendiamo le mollette I pantaloni La tutina E un'altra tutina Gialla Annabelle sta piangendo Devo andare a vedere Forza Annabelle! Mangia! Mangia! È buonissimo! Perché non vuoi mangiare? Mangia! Non farei capricci Annabelle! Perché non mangi? Ci ha messo così tanto amore per prepararlo Annabelle! Annabelle! Peppa! Che cosa è successo? Perché piange così? Ho preparato un purè di broccoli e Annabelle non vuole mangiarlo! Ma Peppa ma questo non è modo di far mangiare un bambino piccolo Ti piacerebbe se ti facessero mangiare così? Vieni qua piccolino ti pulisco la bocca Bisognerà lavare anche questo Sidney ma allora come possiamo fare per far mangiare Annabelle? Proviamo il tuo purè è molto buono Peppa ho un'idea mi servirà la mia bacchetta magica abracadabra wow Annabelle guarda che broccoli grandi è un'idea è un'idea è un'idea il tuo piatto è un'idea giù e giù è un'idea Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma è incredibile! E va, quelli ballano e Annabella mangia! Mmm, Annabella ha finito tutto, che brava! E adesso puliamo la bocca! Che bello! Sidney, la prossima volta ne preparerai pure di banane! Mi servirà di nuovo la tua magia! Certo, Peppa! Ripeterò la magia! E a te è piaciuto il ballo dei broccoli? Scrivicelo nei commenti! Ciao! Ciao!